Martedì 30 novembre, Sant'Andrea. È il 334 giorno. Dall'inizio dell'anno ne mancano 31 al termine. Il sole sorge alle 7.29 e tramonta alle 16.30. La luna si leva alle 2.21 e tramonta alle 14.25. Altra elezione patriarcale. Stavolta viene eletto Pietro Contarini, succedendo al congiunto Alvise, deceduto il 16 dello stesso mese e rimasto in carica per soli 5 mesi. Le previsioni per domani. Tempo stabile in prevalenza soleggiato nella prima parte della giornata. Poi, consistente aumento della nuvolosità a partire da ovest dal pomeriggio sera, con qualche possibile debole precipitazione. Temperature insensibile aumento in montagna, in lieve rialzo in pianura.